Votare con le dita, se no ogni volta è la stessa cosa. Costantino. Ha votato. Perfetto. Votazione chiusa. La Camera approva. Articolo 30, votazione aperta. La Camera approva. Votazione, l'articolo 31, votazione aperta. Onorevole Tancredi, io più che chiamarla non posso fare. Poi, se fa la cortesia, voti con le dita e vede che questo problema non ce l'ha più. E' chiusa qua la discussione. Basta. Onorevole Tancredi, non mi costringa a richiamarla. Onorevole Tancredi, basta. Non abusi la pazienza della Presidenza. La votazione è chiusa. La Camera approva. Articolo 32, 32.50. Relatore, prego. Parere contrario. Perfetto. 32.52. Parere favorevole. 32.53. Parere contrario. La ringrazio. Governo. Conforme al relatore. La ringrazio. 32.50. Contraria Commissione e Governo. Votazione aperta. Carreggio. Fiorio